Si tratta della valorizzazione dei giovani che lavorano la ceramica e la terracotta, provenienti in primis da Castelli, che è un'identità fortissima del nostro territorio, per poi arrivare al nazionale e all'internazionale. Per la valorizzazione proprio di questa materia che in qualche modo spesso e volentieri purtroppo viene intesa come materia dell'artigianato, ma in realtà è un qualcosa che consente dei virtuosismi e delle forme di linguaggio altissimo. Un evento assolutamente importante che viene valorizzato dalla presenza di uno degli istrioni dell'arte contemporanea italiana, Filippo D'Averio, e che vedrà non solo i nostri giovani a far vedere quanto riescano a valere, ma anche delle mostre correlate che raccontano il nostro passato, il passato della ceramica, con Serafino Mattucci e Giancarlo Ciannella, che in qualche modo è il presente, ma purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, e poi due maestri attualmente ancora in attività, Marco Apicciafuoco e Nino Di Simone, che appunto danno un quadro completo dello status quo di quest'arte. Quest'anno c'è un premio speciale per la ceramica e per i giovani, quindi insomma due emblemi assolutamente della nostra mission. I giovani sicuramente costituiscono un punto nodale della nostra attività e poi la ceramica. Il Palazzo Melatino ha il piacere di ospitare ceramica di vari momenti storici e poi ha il piacere di ospitare qui al piano centrale questa mostra permanente di Serafino Mattucci. Siamo ben lieti che la Fondazione Cingoli quest'anno abbia immaginato questa retrospettiva proprio su Serafino Mattucci e quindi abbiamo eccezionalmente consentito che alcuni pezzi vengano trasferiti a Villa Paris. Quindi insomma due emblemi della nostra mission che sono assolutamente coniugati in maniera assolutamente perfetta direi in questa prima edizione per i giovani.